Molto vaghe le dichiarazioni che l'oramai ex presidente della Reale Cappella, Fabio Gripaldi, ha rilasciato in merito alla rinuncia del suo ruolo gestionale. Ha infatti detto che non c'erano i presupposti per lavorare in serenità. Ho comunicato le mie dimissioni al sindaco tramite una lettera personale, se quindi vorrai sporne contenuti e libero di procedere. Ed ancora, non penso che allo stato attuale si possa tornare indietro. Se cambiano tali presupposti, potrei forse ripensarci. Il primo cittadino così commenta la presa di posizione. Il comune come sempre ha assicurato le risorse finanziarie necessarie, mentre le scelte gestionali sono state assunte in assoluta autonomia dalla Reale Cappella dal suo presidente. L'unico suggerimento che ci siamo permessi di indicare è stato quello di evitare un impegno economico eccessivo per i fuochi d'artificio, in un generale contesto di ristrettezze economiche. Dalle parole del sindaco, si potrebbe pensare quindi che il motivo sarebbe da circoscriversi nel campo dei finanziamenti, troppo esigui forse per l'ex Gripaldi. Tuttavia, come si sa, la verità ha sempre due volti. Pertanto aspettiamo di sapere i famosi contenuti della lettera indirizzata al sindaco Nino Garozzo.